Ho sentito le registrazioni di Giulia a colloquio con la mamma, non ci sono motivo per sperare che siano vivi. La drammaticità di questa telefonata nel salutare i propri genitori, nel dire grazie mamma per quello che hai fatto per me. E' stato ritrovato il corpo della 27enne di Venezia. Questi ragazzi, per poter costruire il proprio futuro, hanno dovuto lasciare l'Italia. E' questi due ragazzi che sono andati a morire in Inghilterra, a Londra. Le soluzioni professionali non davano gli esiti che ogni giovane meriterebbe quando esce anche con 110. Grazie per la visione!